Da Piazza Santa Restituta con Giovanni Desiano, consigliere comunale di L'Acquameno, per parlare della situazione del porto. Tante notizie che si sono rincorse negli ultimi mesi, ora a metà del mese di gennaio. Qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive in vista dell'estate? Tecnicamente siamo in attesa del giudizio del Consiglio di Stato che dovrebbe arrivare il giorno 27 di gennaio, se non sbaglio. Facendo un rapido escorso di quello che è successo, la società che noi in più modi abbiamo intimato a lasciare il porto ha sempre ricorso al TAR. Il TAR con una serie di sospensive, praticamente, ha rimasto la gestione all'oro fino ad adesso. Noi abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato come Comune per avere le nostre ragioni, che poi sono quelle di ritornare alla gestione pubblica, visto che non riceviamo canoni da oltre tre anni. Aspettiamo il giudizio del Consiglio di Stato, sperando che faccia valere le nostre ragioni. Certo è che la situazione di stallo che si vive adesso rende difficile anche programmare quella che può essere la stagione estiva e rendere il porto effettivamente una risorsa per il Comune. Assolutamente sì, questo è uno dei problemi più gravi che ci si presenta con le sospensive del TAR. Vero è che come amministrazione noi abbiamo fatto tutti gli atti propedeutici ad essere pronti già dal 28 a subentrare alla gestione del porto. Abbiamo fatto una manifestazione di interessi per la gestione dei servizi. Anche questa è stata impugnata dall'attuale gestore, anche se è una semplice manifestazione di interessi. Il TAR ha dato una sospensiva fino a dopo l'udienza del Consiglio di Stato. Noi comunque abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per trovarci pronti dal primo febbraio a poter operare. È comunque tardi, avremmo preferito poter programmare già dall'anno scorso, ma tant'è. Questa è la situazione attuale. Se dovessi chiederle sensazioni personali rispetto a quello che sarà l'esito di questa vicenda, qual è l'opinione del Consigliere Desiano? Io resto e sono molto fiducioso che il Consiglio di Stato faccia prevalere le nostre ragioni. Fino adesso io ho fatto veramente fatica a interpretare le decisioni del TAR, perché mi sembra troppo evidente che ci sia qualcosa che non torni. Noi abbiamo diffidato più volte, ci sono le revoche per i mancati pagamenti e per la scadenza naturale del contratto, perché io vorrei ricordare che il contratto è scaduto il 9 giugno dell'anno scorso. Quindi io resto fiducioso che il Consiglio di Stato faccia valere le ragioni dell'amministrazione comunale.